Ed eccoci dalla Pretella alle Giuncaine, il Mata e Ciuffo, Biker! Stiamo per affrontare una temibilissima e tortosissima stradella di montagna. Il Mata è veramente il numero uno, bisogna lasciarlo stare nei percorsi. Ci porta in dei posti veramente belli. Stiamo affrontando una leggera piscisotta. Il Casentino è anche questo, è molto più. Ciao Sid, che ti trovi in Inghilterra. Ti aspettiamo presto con noi. Ciao Sid! Potrete vedere questo video su Teletusen, canale YouTube. Il video vi piace anche, vi faccio vedere anche ai piedi. Giampi, visto che ci ha lasciato, il selvaggio Giampi, il re della sciatta. Ci ha lasciato solo in bicicletta. Ci ha lasciato tantissimo. Vi vogliamo presto con noi. Un posto meraviglioso. Una leggera salita, tutta in ombra. Pace assoluta. Ci vengono le farfalle, ci vengono a cercare. Ci vengono a cercare sul diritto. Farfallina. A volte vale la pena anche tu la fatica. Ma qual è il problema d'arte? Dritto? Eh? Ah, va diritto, diritto. Ma qual è il problema? Eh?